Cambiamo argomento, ci occupiamo di Tribunale, un emendamento del Governo a firma del Ministro Alfano salva la Procura di Bolzano. Vediamo perché nel servizio. Con una deroga alla normativa vigente a livello nazionale, il Governo permetterà alla Procura di Bolzano di affrontare in maniera adeguata una carenza di organico da tempo denunciata. Causa della mancanza di giudici è soprattutto la presenza di norme speciali e autonomistiche in materia di proporzionale bilinguismo. Un intervento di grande e apprezzabile attenzione di fronte alla specificità della situazione in Alto Adige ha commentato con soddisfazione il procuratore Guido Rispoli. Ed era stato lo stesso magistrato nei giorni scorsi a lanciare il grido di allarme per le difficoltà in cui si sarebbe venuta a trovare la Procura di Bolzano a seguito dei nuovi incarichi. Ma con l'emendamento fatto proprio dal Ministro della Giustizia Angelino Alfano sarà ora possibile attingere forza lavoro dagli uditori giudiziari al termine del periodo di tirocinio per i nuovi magistrati. Una mia proposta scrive in una nota soddisfatta la deputata del PDL Michela Biancofiore. Se il governo non fosse intervenuto, non essendo per l'Alto Adige possibile acquisire magistrati provenienti da fuori della provincia, perché non bilingui e neppure giudici operanti all'interno del circondario, la situazione sarebbe diventata drammatica con ricadute negative sull'intero sistema giudiziario.